Benvenuti a BG4SDGs, i nostri appuntamenti dedicati agli obiettivi dell'ONU. Ormai abbiamo compreso che questi 17 obiettivi dell'ONU sono una mappa mentale che dobbiamo avere da qui al 2030, sono anche delle bussole per tentare di affrontare delle tematiche molto complesse, in particolare oggi ci occupiamo dell'obiettivo numero 16, pensate, pace, giustizia e istituzioni, tre temi importantissimi che possono apparire generici ma da cui dipendono le nostre vite. Proprio per questo abbiamo invitato il professor Oreste Pollicino per parlarne, benvenuto Este. Grazie davvero per l'invito. Allora, il professor Oreste Pollicino insegna diritto costituzionale e diritto dei media all'Università Bocconi, in passato è insegnato anche all'Università Oxford, è consulente ed è stato consulente su queste tematiche per la Commissione Europea, per il Consiglio Europeo, per l'Ocse. Possiamo dire tranquillamente che uno dei massimi esperti di data, privacy e giurisprudenza, quindi questa connessione che sta diventando sempre più rilevante tra informazioni, le nostre informazioni, quelli che chiamiamo big data e le normative che ci diamo. Allora, partiamo da questo, perché spesso Oreste si parla della giurisprudenza come un elemento che soffre di un continuo ritardo cronico nei confronti della tecnologia, come se la tecnologia andasse troppo veloce. E' vero? Grazie, grazie davvero Massimo, perché questa è una domanda importantissima. Io ricordo i primi momenti in cui cominciavo a lavorare su questo campo, la sto prendendo un po' da lontano ma capirai perché. Assolutamente. A Chicago, 1997, un giudice, Easterbrook, faceva una relazione da un titolo molto provocatorio. Diritto degli animali o diritto dei cavalli per il cyberspace, per il diritto di internet? Cosa vuol dire? Vuol dire esattamente quello che stai dicendo tu. Bisogna in qualche modo inseguire la nuova regola tecnologica? Il diritto deve inseguire come un maratoneta sempre stanco e sempre arrancante? C'è la possibilità di anticipare i cambiamenti tecnologici? Quindi il diritto dei cavalli come disciplina settoriale e il diritto degli animali come disciplina unitaria che guarda proprio alla Costituzione e alle dichiarazioni dei diritti. E qui le Nazioni Unite ci vengono in soccorso perché la dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 ci parla già della libertà di informare, di esprimersi e di essere informati. Quindi ci dice praticamente che il problema della disinformazione già nel 1948 era un problema esistente. Chiaramente va rimodulato oggi rispetto al nuovo problema tecnologico, rispetto al digitale che amplifica la disinformazione. Ma attenzione, è inutile inseguire e pensare a nuove disposizioni normative quando abbiamo già le nostre bussole. Le bussole sono o le Costituzioni o nel caso delle Nazioni Unite la dichiarazione dei diritti del 1948. Peraltro ricordo che il diritto alla privacy nasce alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, quindi poi tendiamo a rielaborare concettualmente dei termini che in realtà già fanno parte del diritto. Questo è un altro punto molto importante perché spesso si pensa in qualche modo di dover coniare nuove forme di regolazione, nuovi diritti. Si pensa che sono state contate almeno 47 carte dei diritti e dei doveri di internet. Cosa vuol dire? Carte dei diritti e dei doveri pensate esclusivamente per internet. E devo dire che anche il nostro Parlamento italiano ha in qualche modo supportato con una mozione una carta dei diritti di questo tipo. Sono veramente utili? Ecco, la tua domanda ha già la risposta. Probabilmente no, perché abbiamo già una serie di categorie tradizionali, una serie di concettualizzazioni addirittura legate al 1890. L'articolo che tu citavi è il diritto ad essere lasciati soli. The Peace of Mind di Warren and Brandeis, Harvard Law Review del 1890, che è attualissimo. Quindi attenzione a considerare sempre l'urgenza di nuove disposizioni, quando invece dobbiamo semplicemente interpretare con ragionevolezza quello che abbiamo già, il nostro patrimonio costituzionale comune. Peraltro la Harvard Law Review, che giustamente citavi, ricordo è stata la stessa pubblicazione, poi diretta da un giovane Obama. Obama è stato il primo direttore di colore della Harvard Law Review e anzi molti vedono in quell'esperienza proprio il primo passo. Anche prima, quando parlavi di diritto dei cavalli, oggi può far sorridere. In realtà, perché si parlava dei cavalli? Perché erano il mezzo di locomozione per eccellenza. Insomma, quindi molti di quei diritti poi li possiamo rielaborare, ripensare oggi per la mobilità. Senti Oreste, cosa possiamo fare concretamente per utilizzare, diciamo, tutta questa materia molto delicata che è al centro della, potremmo dire proprio al centro della società, per ottenere pace e giustizia? Ecco, secondo me il problema fondamentale qui, e io sto cercando di lavorare in prima persona su questo punto, in questo momento, attraverso la scrittura, insieme alla Commissione Europea, di un codice di condotta contro la disinformazione. Un codice di condotta che impegni moltissimi firmatari, non soltanto le piattaforme, ma anche la società civile e i giornalisti. Perché lo dico? Perché oggi uno strumento bellico è la disinformazione. Oggi uno strumento bellico, lo stiamo vedendo tutti, è la propaganda. Oggi uno strumento bellico è annullare quella trasparenza, quell'accesso che invece Internet dovrebbe dare. Quindi, a mio avviso, avere un percorso quantomeno europeo, che possa essere vincolante per tutti i partecipanti, quindi non self-regulation massimo, ma core-regolamentazione, in cui il pubblico e il privato, insieme alla Commissione Europea, scrivono delle norme contro la disinformazione, si impegnano i firmatari a seguirli, e poi ci sarà la possibilità di un monitoraggio. Secondo me questa è una risposta importante che può veramente sia prevenire, sia attenuare un fenomeno bellico, che oggi, parliamo cicario, è anche basato sulla disinformazione. Peraltro, questo è un tema molto dibattuto, perché sappiamo che esistono delle piattaforme tecnologiche che ormai stanno acquisendo un potere molto importante, in parte stanno rispondendo appunto con una autoregolamentazione, il fatto di darsi dei limiti, il fatto di darsi delle regole, potremmo chiamarle più correttamente così, dall'interno, però in realtà quello che ci sta dicendo è che questo non basta, insomma ci vogliono dei vincoli assunti a livello più generale, più sociale. È proprio così Massimo, ti faccio un esempio. Nel 2018, insieme a tuoi colleghi Fubini e Riotta, sono stato in Commissione Europea per cercare di provare a dare un consiglio circa quella che doveva essere la strategia del 2018 rispetto alla disinformazione. La strategia definita dalla Commissione, poi è stata una decisione autonoma allora, è stata quella minimalista. Cioè, cosa vuol dire? Un codice di condotta scritto ed applicato dagli stessi attori del mercato, quindi dalle stesse piattaforme. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato fallimentare, perché è evidente che le piattaforme non scriveranno mai nulla che possa alterare il modello di business. Quindi cosa si sta facendo ora, quattro anni dopo? Si sta facendo un nuovo percorso, cioè la Commissione adotta delle linee guida che sono vincolanti, sono la bussola, sono di fatto la stella cometa per cui queste regole devono essere scritte sulla base di quanto previsto dalla Commissione. Quindi non so come dire, non è più un processo autoregolatorio, ma soprattutto autoreferenziale, ma c'è comunque un dialogo e io sono fiducioso che se questo dialogo può finalizzarsi avremo veramente il primo codice europeo contro disinformazione che può essere un modello anche globale, perché al momento nessun altro continente sta facendo questo esperimento. Però vedremo alla fine, perché come dicevi giustamente tu, l'insidia è sempre lì all'angolo. Senti, parliamo spesso delle big tech, perché giustamente le società tecnologiche hanno acquisito una grande importanza, ma si dice anche che sino a pochi anni fa il ruolo che oggi hanno le big tech lo aveva la finanza. Allora tutte queste informazioni, tutta anche questa scuola di pensiero che ci stai trasferendo mi sembra anche molto importante per il mondo della finanza. È importante il mondo della finanza, è importante perché bisogna stare sempre molto attenti a non separare ciò che sembra differente, ma che in realtà ha delle connessioni. Il mondo della finanza, a cominciare dal fintech, a cominciare da tutti quelli che sono gli strumenti tecnologici oggi per poter guidare gli strumenti finanziari, hanno bisogno di un concetto fondamentale, quello della trasparenza. La trasparenza è fondamentale per quale motivo? Sembra ovvio, ma per cercare di alimentare la fiducia dei cittadini che sono anche utenti e sono anche investitori. Quindi il concetto di trasparenza è veramente il valore fondante del nuovo laboratorio digitale europeo, anche quello finanziario. Forse nella nuova società non c'è più così, diciamo, una netta separazione tra utente, cittadino, consumatore e investitore. Insomma, in qualche maniera dobbiamo immaginare che la digitalizzazione abbia anche un po' fuso questi concetti. Bravissimo, io la chiamerei un'ibridazione. Cioè c'è sicuramente una forma di, come dire, di mancata autonomia concettuale tra questi ruoli. Si sono sicuramente ibridizzati e quindi cosa vuol dire? Vuol dire trovare una disciplina che possa essere omnicomprensiva? No, però bisogna stare anche attenti ad evitare la frammentazione normativa, perché è evidente che se si tratta di trovare dei singoli canali per il singolo ruolo, allora qual è il problema? Il problema è che la certezza del diritto chiaramente va a essere attenuato. E se nel mercato digitale europeo viene meno la certezza del diritto, viene meno tutto, perché si basa, la questione fondamentale è la fiducia che non il grande gigante, ma la singola start-up deve avere in una prevedibilità. Se non c'è questa prevedibilità, il mercato digitale europeo muore, muore con tutto quello che muore chiaramente attorno a lui. A cominciare dalla possibilità di avere veramente quella trasparenza di cui ti parlavo. Senti, un ultimo tema che però sentiamo spesso citare in Italia, appunto visto che hai parlato di importanza di garantire proprio la legge, garantire il rispetto della legge. In Italia sul ritardo giurisprudenziale stiamo facendo dei passi in avanti? I passi in avanti direi che sono pochi. A mio avviso sono pochi per un motivo molto semplice. C'è una inerzia legislativa. E l'inerzia cosa è dovuta? Al fatto che si pensi che vi sia una presunzione di obsolescenza. Cosa voglio dire in termini concreti? Voglio dire che si pensa che la normativa adottata può diventare obsoleta qualche giorno dopo. Ma non è così. Non è così. Ti faccio un esempio. La Costituzione italiana, articolo 21 della Costituzione, 1948. Ovviamente internet era l'ultimo dei mondi possibile ed immaginabile. Ebbene, i costituenti dicevano, anche in maniera profetica, tutti possono esprimere il loro pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quindi evidentemente in questa clausola di apertura rientra internet non c'è alcun bisogno di codificare in Costituzione il diritto di internet. Perché lo abbiamo già là. Quindi voglio dire, il problema della obsolescenza è spesso una scusa per non prendersi la responsabilità politica delle scelte. Perché la tecnologia è neutra fino a un certo punto. È anche valoriale. Quindi andare da una parte o dall'altra porta anche le responsabilità politiche che non tutti vogliono prendersi. Quindi in realtà, come ci stavi raccontando, i padri legislatori sono stati anche più previdenti di quanto pensiamo. Allora io ringrazio per questa importante partecipazione del professor Oeste Pollicino. È stato davvero un piacere e grazie di cuore per questo invito Massimo. E continuate a seguirci in questi appuntamenti. Grazie.